Ormai da milioni di anni va la velocità di 104.000 km l'ora. Io amo il giornalismo, ma è vero il giornalismo, non quello che mi viene a parlare delle cappate, lo scontri, lo scomigazione, ma questo è vero il giornalismo. Per me non è vero il giornalismo. Perché invece, questo mezzo è stato a 104.000 km l'ora, perché al Senato ci sono stati dei valori. Ma qual è il fratturo dell'Aprilio? Cioè, io adesso non ho messo tra colleghi, a banca e a semia. Io mando una mail per organizzarsi e questo apre il fratturo. Ma che fratturo dell'Aprilio? Non stiamo scherzando, ma sembra che abbiamo lavorato in un'azienda. Allora abbiamo lavorato in un'azienda e sembra che non si può organizzarsi. Ma che dobbiamo parire i fogli di carta perché se mandate, se uscite la mail è un problema. Sì, ma non è che dovete stravolgere il contenuto del testo. Voi continui con un'idea indirizzata, però se già lei parte con un'idea indirizzata è inutile il confronto. Se lei invece fa la domanda... Non parte un'idea, le stanno facendo una domanda. Lo sa quando si è dimostrato che lei è partita con già un'idea indirizzata? Allora, il secondo messaggio è molto più pratico. Quindi sono stata nella lista dei giornalisti in Palatene? No, semplicemente ti dico, se lei fa una domanda senza avere un'idea indirizzata... Tutti i giornali del mondo titolavano nel 2000 massimo del 1.10... Non ha aperto nessun malumore. 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 E se lei dice che il gruppo comunicazione decide così che... Allora è successo, sta succedendo. Ma sono terrorizzati a dirvelo. Perché voi gli direste, va bene. Allora se lei è un gruppo comunicazione, mi ha fatto un'idea indirizzata. Mi risposta un'idea indirizzata. La prima domanda. Se lei è transatlantico, arriva un giornalista e le chiede un'intervista. Lei che fa? Ma c'è il vero? Ma perché non le ho dato il vero? La farmaca dell'articolo. Ma vogliamo chiedere una testimonianza? Ma vogliamo chiedere un'intervista transatlantico? Ci sono solo due signori vestiti in bianco? E allora? Che stiamo parlando? Questa è una dimostrazione. Ed è sempre sempre così bene. E' tutto deserto. Non ci sono più gli ocrai. Non solo, ma non esserci più gli ocrai nella grande fabbrica perché costruisci tutto.